Ciao a tutti, eccoci qui per un video estivo sugli avvenimenti calcistici di questo periodo. Cominciamo però con la sigla! Forza Atalanta dai, spingi più forte che vuoi. Volevo fare questo video anzitutto per denunciare un po' il vergognoso comportamento della FIGC nei confronti dei campionati cadetti. Senza essere tifoso di nessuno non posso constatare che i meriti e i demeriti di alcune squadre per errore a quanto pare di pura formalità possano determinare retrocessioni addirittura clamorose. Sto parlando dell'Ecco che, al di là di alcune mie conoscenze di tifosi di questa squadra, a causa della stretta vicinanza alla nostra Bergamo, l'Ecco si trova a dover essere esclusa da una meretitatissima e faticosa, fino alla finale dei play-off, promozione per un cavillo che riguarda l'autorizzazione allo stadio di Padova arrivata a tempi scaduti. Non solo, ma l'eventuale esclusione dalla Serie B, oltre ad essere assurda, la confinerebbe addirittura a ripartire dalla terza categoria. Non si giustifica nessuna violenza, tanto meno per il calcio, ma se ci fosse qualche disordine, se verasse il caso non sarebbe sicuramente fuori luogo. A discapito poi di Perugia e Brescia, che hanno meritatamente subito la retrocessione. Da Atalantino sì, questo mi dà fastidio, visto che noi, in tempi non così assurdi, ci siamo fatti il nostro bel campionato di Serie C, senza chiedere ammissioni a campionati che non meritiamo. A questo punto, cari Bresciani, legittimate anche le nostre, tra virgolette, affettuese, offese. Allo stesso modo, andando contro all'Atalanta, non vedo perché il Siena debba rinunciare alla Serie C e sembrerebbe, dico sembrerebbe, a discapito della nostra Atalanta Under 23, che arriva in C, secondo me, senza alcuna qualificazione precedente, per quale motivo dovrebbe iniziare come dovrebbe essere, dal fondo, come tutte le altre squadre. Insomma, un calcio che sta sempre diventando più assurdo, che decide con posizione di campionato a tavolino e senza meriti. Vi invito qui sotto ad esprimere i vostri pareri in merito, commentando. Passiamo alla Serie A e agli ormai ritiri cominciati per tutte le squadre partecipanti. Manca infatti appena un mese e si ricomincia con il campionato. Che vede l'Atalanta protagonista, anche per gli impegni che dovrà avere in Europa League, da testa di serie e che si preannuncia una competizione combattiva. Le prime squadre che affronteremo sono decisamente la nostra portata. A cominciare bene è sicuramente un buon aspicio e porta punti che, in caso di eventuali rallontamenti, speriamo di no, a fine di campionato, ci potrebbero, come lo scorso anno, garantirci posizioni più interessanti. In due trasferte subito avremo il Sassuolo e il Frosinone, per poi avere il Monza in casa. Vedremo, non possiamo parlarne certo adesso, a calcio un mercato aperto ed in fermento. Parlando quindi del mercato dei giocatori, sicuramente è un mercato scarno e senza grosse novità nel parorama della nostra Serie A. Si annoverano comunque, tra i più rilevanti scambi, sia in entrata che in uscita, quelli di Onana al Manchester dall'Inter. Quadrado all'Inter, peccato che non si ne sia andato dall'Italia, proveniente dalla Juve. Kim del Napoli al Bayern Monaco. Tonali del Milan al Newcastle. Becao, che era quasi vicino all'Atalanta, è ormai destinato invece al Fenerbace. Collini viene riconfermato al Napoli dall'Atalanta. Di Maria al Benfica dalla Juventus. Piontek dalla Serenitana all'Erta Berlino. Turam dalla Borussia arriva all'Inter. In sospeso Morata, che dovrebbe arrivare in Italia, ma non si sa se con l'Inter o con la Roma. E poi c'è la questione del costo, che l'atletico non vuole sentir ragione. Sembra quasi fatta anche per Artur alla Fiorentina, proveniente dalla Juventus. Nulla quindi di particolarmente importante, se non che tra queste trattative, le più importanti riguardano proprio delle fughe all'estero. Sottolineo questo perché il campionato così si impoverisce di giocatori di livello, e non è certo un vantaggio a favore della Serie A. Quello che invece aumenta è il canone da Zon, che nonostante i problemi di streaming, ha raggiunto costi addirittura più alti di quanto faceva pagare Sky in passato. Ed offriva in aggiunta, anche se obbligatoriamente, alcuni canali di intrattenimento. Concludiamo quindi questo primo video sulla nuova stagione 23-24 e con la situazione della nostra Atalanta. Relativamente al mercato, rientra Carnesecchi, che dovrebbe quindi rimanere e prendere il posto o di titolare, oppure di secondo portiere al posto di sportiello, ceduto al Milan. Rientrano dal prestito anche Miranchuk e Kovalenko, e vedremo se avranno destinazioni diverse oppure resteranno in forza Gasperini. In entrata, a dopo, i difensori Colasi, Natch e Baccar. Non ho ancora imparato bene a pronunciarli. Mosca. Niente nomi altisonanti, ma speriamo siano buoni investimenti. Non si può dire altro prima di vederli all'opera. Nelle due amichevoli, in Inghilterra e in Germania, forse potremo avere già indicazioni. Sperando anzitutto che rimanga il nostro Ausland, per l'Atalanta, ma anche per lui, vedremo se faremo altri colpi di mercato. Intanto la squadra è a Clusone. Probabilmente partirà il caldo che stiamo sentendo in questi giorni, ma è un problema, credo, comune per tutte le squadre che sono in ritiro. Appuntamento quindi alla fine del mese con la prima amichevole, con il Bornemuth in Inghilterra e inizio agosto con la Union Berlino in Germania, sperando di poterle vedere in televisione in qualche modo. Come è successo in passato, solo alcune amichevole vengono trasmessi. Non mancatevi sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, così non perderete tutte le novità. Quest'anno conto di essere ancora più attivo nel canale, in quanto non ho fatto l'abbonamento allo stadio per l'Atalanta per motivi personali. Vi saluto e buon caldo a tutti!